Grazie a tutti. Don Da Soul, Marco Giudadino, Marcad Conal Junior Cadio, allenatore Luca Danelli, arbitro il signor Mario Capasco e la signorina Roberta Russo. Prima dell'inizio della gara sarà suonato l'ino nazionale. Vi ricordiamo che le premiazioni saranno effettuate al termine della... Grazie a tutti. 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 No. Di sotto butta là dentro, butta là dentro, di sotto butta là dentro. Non so, non so, non so. BASTA BASTA non fischiara almeno ci sbaglio a casa oh sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.